Guardate che parcheggio, a parte che sta appiccicato a quello di dieci, ma vabbè era ben gradibile, non ci sta dentro, è un po' parcheggiato. Guarda, veramente no vabbè, questo è un po' parcheggiato, no vabbè, disastro, no vabbè. Questa è un po' parcheggiato, questa mattina, no vabbè. Sembra lì. E poi c'è un altro oppure mattato davanti, no vabbè. Grazie. Grazie.